oggi andremo a stampare etichette giudelleria partiamo da quello che sarà il nostro risultato un'etichetta da mettere sui bijoux a coda di topo quindi a questa coda con adesivo sgommato quindi praticamente non contiene adesivo non è adesiva in modo da non lasciare residui e abbiamo questa bandierina che si chiude dove possiamo mettere i nostri dati quindi i nostri dati diciamo le informazioni sul prodotto possiamo mettere un logo un'immagine il prezzo la descrizione ma anche ad esempio il codice a barri se facciamo la tracciabilità dei prodotti quindi andiamo a vedere come si compone questa soluzione e quanto sia facile implementarla la soluzione parte da una stampante con questa tecnologia a trasferimento termico allora questa etichetta è in polipropilene quindi è un'etichetta in materiale sintetico che anche allo sfregamento ma anche con detergenti e solventi non viene via la stampante che utilizzeremo a trasferimento termico è una stampante con una risoluzione a 300 dpi ci serve questa risoluzione perché come vedete queste etichette sono estremamente piccole e specialmente se dobbiamo usare font caratteri tipografici molto ridotti o addirittura il codice a barre ci serve una buona risoluzione affinché il codice sia leggibile il software è estremamente semplice come potete vedere allora noi abbiamo per semplicità disegnato la nostra etichetta come un rettangolo in realtà questi due è composta da due piccoli rettangoli con una restampabile ognuno di 22 mm per 10 ma insomma ne possiamo fare di diverse tipologie e poi ovviamente c'è il codino che andrà intorno al nostro gioiello gioiello quindi su una parte vedete qua c'è sul software ci sta un righello insomma fino a 22 cm in questo caso abbiamo messo un logo dall'altra parte abbiamo messo una descrizione con il prezzo questa stampante stampa a una velocità veramente elevata quindi noi potremmo stampare mille etichette più o meno le etichette in 10 minuti semplicissimo da vedete ho stampato le etichette in due secondi quindi semplicissimo da utilizzare la stiamo utilizzando adesso con il ribbon oro adesso andiamo a vedere com'è la tecnologia di stampa quindi con una stampa in oro la stampante è monocromatica ma possiamo comunque utilizzare colori diversi queste per esempio con il codice a barre dove c'è il codice a barre abbiamo ovviamente l'abbiamo stampato in nero perché il codice a barre deve avere un giusto contrasto e quindi il bianco sul nero è il contrasto perfetto se volessi vi faccio vedere immediatamente sostituire diciamo questa che è un'immagine con il codice a barre mi basterà tutti gli oggetti ce l'ho sulla sinistra mi basterà prendere il codice a barre inserirlo nella mia area di stampa inserire quali sono diciamo i numeri da codificare quindi che corrispondono ovviamente a un indice di un database possiamo ridimensionare il codice a barre questo è un generatore di codice a barre quindi questo codice a barre sarà sempre perfettamente leggibile dai lettori vedete si ridimensiona mantenendo lo standard della famiglia di codice a barre che stiamo utilizzando e in questo caso andiamo sempre in stampa vedete è immediato andiamo a vedere la tecnologia questa tecnologia trasferimento termico della quale vi invito a guardare tutti i nostri video perché possiamo stampare una su un'ampia gamma di materiali ma soprattutto etichette di qualsiasi tipologia e soprattutto resistenti allora la stampante oltre avere il materiale di consumo sono etichette che possono avere varie dimensioni e formati è composta da come nastro di stampa vedete all'interno questo che viene chiamato ribbon of foil a questa pellicola che corrisponde all'inchiostro in realtà è una pellicola che per il calore della testina viene sfogliata e quindi genera l'immagine che vogliamo stampare queste pellicole ci sono di diversi colori sono fatte così ovviamente variano in funzione del materiale che vogliamo utilizzare quindi in questo caso siamo su un'etichetta sintetica utilizzeremo la resina per avere apposta una stampa indelebile e resistente ma è estremamente semplice perché qua sotto si cambia il nastro e si cambia immediatamente il colore con estrema facilità questo questa pellicola è estremamente semplice sostituirla perché si leva ovviamente quella la parte nuova vedete c'è una parte che è nuova che va sotto e una parte di recupero che inseriamo sopra l'andiamo ad inserire all'interno della stampante e con estrema velocità andiamo a cambiare il colore di stampa abbiamo detto che come colore di stampa li possiamo utilizzare diversi ovviamente questo dipenderà dalla dalla tipologia di etichetta che noi andremo a stampare soprattutto dalle informazioni vedete qua in veramente pochi secondi abbiamo cambiato il colore di stampa ovviamente con la stessa facilità posso cambiare il tipo di etichette in questo caso sono a coda di topo specifiche per i gioielli ma insomma potremmo utilizzare qualsiasi altro tipo di etichetta andiamo a stampare 10 etichette guardate la velocità con cui stampa ma soprattutto una stampa perfetta allineata precisa quindi se vi interessa una soluzione di stampa per le vostre etichette contattateci ai nostri riferimenti